Buonasera a tutti, questa è la serata conclusiva della Masterclass dell'Anguilara Guitar Festival. I ragazzi hanno lavorato tantissimo, si sono divertiti, questa sera con la loro esecuzione faranno vedere un po' le cose su cui hanno lavorato in questi giorni, ognuno cercherà sicuramente di dare il massimo. Io non mi dilungo più di tanto perché c'è tanta musica da ascoltare, quindi comincerei subito, ogni ragazzo presenterà direttamente quello che suona, così rendiamo la cosa un po' più fluida. Annuncio soltanto il primo, che è Leonardo Annisi Palmieri. Alla questa sera si unirò a Steve Wheat, qui viene. Alla questa sera si unirò a tutti. Io questa sera suonerò uno studio di Giuliani e due studi di Bravo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. 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 Buonasera a tutti, io vi suonerò i preludi 3 e 4 di Villa Lobos. Grazie. 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 Questa sera suonerò i due studi di Instagreras, il numero 53 e il 61. Il 60. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. Bravo. Mauro Giuliani. Grazie a tutti. 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 Buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie.